Quindi un saluto agli amici del bar di Verbella di Santagòi sull'anno, oltre chiaramente a Lina e Tommaso e veramente un plauso a Alessandro Baroni in regia, noi ci vediamo martedì prossimo ma continuate a guardarci sul 272 e le varie le epiche sempre sul canale 94 Buonasera da Maurizio Zini Grazie a tutti